cosa 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 ho visto ancora il mantello bianco nooo chiede in trappola giada mamma nadia dai giocate con me cos'è stato ragazzi adesso non vedo niente ragazzi che cos'era si l'ho sentito anch'io mamma si è sentito anche tu quel rumore e io mi sono spaventato a morte ragazzi si che l'ho sentito ok dai dobbiamo andare giù a vedere che cosa è successo dai andiamo ok ragazzi stai vicino a me amore abbiamo sentito un rumore tremendo non urlate ragazzi mi raccomando adesso usciamo dalla stanza e andiamo a vedere che cosa è successo anche se io ho un po' paura ragazzi mi raccomando state dietro di me dobbiamo andare giù ragazzi ho un po' paura siete sicuri di voler venire e volete aspettare qua oddio oddio aspettate aspettate giù 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 c'è qualcuno ci sono le luci accese chi è oddio ha paura che è la luce accesa non vedo nessuno sembra libero guarda non c'è la pioggia rossa c'è la luce accesa si c'è sicuramente qualcuno no mamma vittu io non ci vengo giù c'è qualcosa che si muove laggiù c'è sicuramente qualcosa oddio no ragazzi state qua ok allora abbiamo ragazzi già da oddio la porta questo è stato questo ragazze qualcuno ha aperto la porta com'è qualcuno ha aperto oddio è vero è aperta la porta è aperta ma anche la finestra ragazze se questo è uno scherzo non è divertente io me ne torno a dormire allora state dietro di me ragazzi adesso andiamo in cucina a prendere qualche cosa no no perché sono sceso cosa possiamo prendere in cucina per difenderci io prendo l'aspirapolvere non so cosa può servire allora sei un fantasma lo aspiro dai rispetti la richi prendi questo cosa te ne fai dell'aspirapolvere via non c'è un passo non lo so dai vetti via ok piano piano guarda cos'è questo odore strano mi manca un po' il respiro cosa sta succedendo che cosa allora no calmi è lì cosa chi è piccato che cos'è questo sapore che ho in gola ma dove sono ma dove siamo ma perché sono in macchina i ragazzi oddio Giada 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 Ricky dove siamo svegliato fratello Ricky Ricky no la colazione come state ma dove siamo come state non lo so ci siamo risvegliati con in macchina perché mi ha vestito così anche a me anche io sono vestita ragazzi non so niente cosa fa questa è la nostra macchina ok non lo so allora io direi che adesso accendiamo la macchina e partiamo e cerchiamo di tornare a casa allora intanto qui chiudiamoci dentro ok meglio ok oddio cosa chiave non rilevata oh no non abbiamo la chiave non abbiamo la chiave già tu dove l'avevi messa guardate ma no sei stata a te ma no ma che messa ragazzi noi non eravamo in macchina qualcuno ci ha messo qui in macchina e chi ma come ma che ne so e come siamo arrivati fino a qua allora guardate dappertutto guardiamo qua dentro allora no io non ce l'ho non c'è niente ragazzi no la chiave è punto io scendo ragazzi appena scendo schiacciate questo pulsante e vi chiudete dentro mi raccomando eh ok vai già non adesso appena scendo quando chiude la portiera oh santo cielo è chiuso si schiaccia come si apri qua è così così eh eccoti cos'è successo chiudi 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 laggiù c'era qualcosa che si muoveva oddio no c'era cosa qua tipo una veste bianca come no la stessa che abbiamo visto a casa oh no ok qui c'è un ascensore se ci sbrighiamo lo chiamiamo saliamo e magari siamo salvi ok ok cerchiamo la salvezza speriamo eh non sappiamo dove va ok ragazzi statemi vicini non vi allontanate prendiamo questo ok se lo usiamo come arma in caso lo chiudiamo e diventa l'unica arma che abbiamo ragazzi mi raccomando eh si che buona ok 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 oddio mi manca la via cosa 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 ma senti carmi dai schiaccia sto pulsante ah mi fai dai fuori è schiaccia è schiaccia chiudi 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 ok ok adesso proviamo ad andare a due stiamo salendo ragazzi perché non si sta aprendo si è più l'ascensore si è fermato eh andiamo di qua oddio tu intravedi qualcosa no di qua non c'è niente io poi intravedo qualcosa quindi e di là che si dovrebbe aprire che c'è un altro parcheggio già tra no siamo chiusi dentro lo cosa 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 ho visto ancora il mantello bianco no shhhh ok no mamma Nadia sono i nostri nord dai, giocate con me cos'è stato? oddio si sta muovendo va velocissimo ragazzi continuiamo a fare su e giù su e giù e non si capisce dove stiamo andando ma perchè continuiamo a fare su e giù cosa sta succedendo in questo ascensore? ragazzi non si apre non si apre siamo bloccati siamo bloccati dentro ragazzi ci sta sentendo non ce la posso fare io la faccio no ragazzi respirate respirate ok? non lo faccio siamo arrivati non mi ha piaciuto l'acqua lo sentiamo proprio sempre ok allora ragazzi adesso perché è diventato tutto buio? non vedo niente ragazze ragazzi per favore cos'è questo rumore? fermi state qua, state qua oddio non lo so non lo so non lo so le chiavi sono le chiavi ma è la macchina è la macchina non lo so non si reagisce non lo so schiacciamo? schiacciamo qualche postante dai guardi nooo ma non eravamo qua prima ok magari troviamo delle scale qualcosa dai ragazzi cerchiamo andiamo cerchiamo cerchiamo qua non c'è niente ma dov'è la macchina? dov'è finita? laggiù c'è finito a stare andiamo a vedere dai diciamo dobbiamo riparare oh dobbiamo già dai qual è? non mi fa quando sei una mamma del cielo Speriamo di no, almeno qua non fa freddo, non c'è quel mostro che c'era fuori. Non ci posso credere. Mi sento, mi sento, mi sento, mi sentiamo, andiamo. Ok, ok, grazie. Apri, apri, apri. Scusa, dai, che mi fa dire, mi fa dire, mi fa dire. Scusa, dai, muoviti, salvi. No, 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 no. Sono a casa. Mamma? Ci sei? Mamma. Mamma. Mamma, ragazzi. Mi ha fatto un sogno terribile. Terribile. Anch'io ho fatto un sogno. Io ho sognato che andavamo giù, che c'era la porta aperta e faceva un rumore. Era qualcuno. E poi avevamo in macchina. Un rumore. E poi c'era l'ascensore che non si apriva. La macchina, l'ascensore, anch'io ho sognato questo. Anch'io. Sì, sì. Ragazzi, ma che cosa è successo? Abbiamo fatto tutti e tre lo stesso sogno? Eh, mi sa di sì. Eh, sì. Per fortuna era soltanto un sogno. Aspettate. Cosa? No. No, non ci posso credere. Le chiavi. Le chiavi della macchina? Cos'è questo? Spero vi sia... Siate divertiti alla prossima, Mr. White. Mr. White? Spero vi sia divertiti alla prossima, Mr. White. Chi è, Mr. White? Oh no. Oh no. Buongiorno. 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 Grazie a tutti